Non si fermano gli sbarchi di migranti lungo la costa ionica calabrese, in particolare nella Locride al porto di Roccella, dove gli sbarchi dall'inizio dell'anno sono arrivati a quota 66. Nella tarda mattinata di ieri, infatti, a conclusione di un'operazione di soccorso in mare compiuta dalla Guardia di Finanza, nello scalo marittimo reggino, sono sbarcati 55 migranti di nazionalità afghana e siriana. Tra i profughi una quindicina di donne e diversi minori, alcuni dei quali non accompagnati. Da mercoledì scorso a ieri, sempre a Roccella Ionica, si erano già verificati altri tre sbarchi. Prima comunque di raggiungere lo scalo portuale reggino, i migranti si trovavano a diverse miglia di distanza dalla costa calabrese, a bordo di una vecchia imbarcazione alla deriva partita circa sei giorni fa dalla Turchia, in particolare dal porto di Smirne. Dopo l'arrivo a Roccella, i migranti sono stati temporaneamente sistemati in una tensostruttura, già sia dai volontari della Croce Rossa e dalla Protezione Civile. Lo ricordiamo, dall'inizio dell'anno, nella Locride, sono sbarcati circa 10.000 profughi. E la situazione, ovviamente, non sta per niente allentando, anzi, nelle ultime settimane si sono moltiplicati, mettendo spesso a dura prova la tensostruttura, che comunque non riesce più a gestire il quotidiano.